A seguito della rottura di una tubatura, parte del percolato prodotto dalla discarica di rifiuti ubicata in una frazione del comune di Scalacelli nel Cosentino, si è riversata nel fiume Nicà che sfocia nel mare Ionio, tra i territori di Cariati e Crucoli. Secondo quanto si è potuto apprendere, i liquami sono fuoriusciti da una tubatura che avrebbe ceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Corigliano Rossano che stanno coordinando, un intervento per cercare di riportare la fuoriuscita dei liquami in alcuni canali di guardia chiusi ermeticamente, allo scopo di evitare il rilascio nelle acque del fiume. Successivamente si provvederà a recuperare i liquidi con l'utilizzo di un autospurgo. Allarmati i sindaci dei comuni interessati per i rischi legati allo sversamento delle sostanze in mare.